Basilicata. Presidio contro l'autonomia differenziata. È in programma martedì 25 giugno dalle 10.30 a Potenza in via Verrastro. Organizzato dal coordinamento regionale della Basilicata contro l'autonomia differenziata costituito da forze politiche, sindacati, associazioni, comitati. Con l'approvazione alla Camera del DDL Calderoli l'Italia, una indivisibile nata dalla Resistenza, si avvia a diventare il paese delle disuguaglianze, con distanze sempre più marcate tra nord e sud, tra aree interne e aree urbanizzate. Si avrà alla fine della Repubblica una indivisibile con, potenzialmente, 20 sistemi scolastici, 20 sistemi sanitari, 20 normative ambientali e di sicurezza sul lavoro, 20 gestioni delle infrastrutture. Lo afferma in una nota il coordinamento regionale della Basilicata contro l'autonomia differenziata. Che esprime preoccupazione e un forte dissenso su un progetto che rischia di compromettere in modo irreparabile il principio di universalità dei diritti soprattutto in ambiti particolarmente delicati quali sono, ad esempio, quello sanitario e dell'istruzione, mettendo in risalto le criticità di un modello di federalismo regionale che non tiene conto delle enormi differenze oggi esistenti nelle diverse aree del paese e soprattutto del divario in termini di ricchezza, infrastrutture e servizi.